Sta arrivando mamma. Si sta arrivando mamma. Bravo Magliano, bravo. Basta giocare. Mettiamo una scatola? Aspetta, io qua metto porta. Dove hai messo un po' la porta? Perché è lì? Perché è lì? Andiamo a cacciare qualcosa da mangiare e andiamo a trovare ferro. Qui ci sono quelle cose che bruciano. Come si chiamano? Mostri. Zombie. Bruciano zombie. Così, guarda. Quando io devo andare si chiudono subito. Ah, come fai? Come fai? No, adesso è troppo vicino. Si può spostarla? Eh? Vedi? Si. Però questa hai messo troppo vicino. Provo anch'io. Dai andiamo a cacciare pecore prima. Ho capito. Andiamo. Andiamo. Bravo, io non so tante cose. Qua c'era una grotta. Andiamo a cacciare i magliani. Ah, sì, è vero. Dai, andiamo a prendere carne. Se prendiamo funghi... Oh, volpe! Lo ammazziamo? No, no, no. Ma che? Lui non ci dà carne. E' vero. Ci sono pecore, poi sono perretto. Ah, carne non hanno. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma prendi spada. Cip, 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 cip. Prendi spada. Anche lei vuole fare una brutta fine. Ma l'ho ucciso subito! Un colpo, subito. Ci chiama mamma, dobbiamo andare a casa. Perché ci sgrida, di sicuro. Ci sono ancora pecore. Maiali. Dove? Qua. Bravo, maiali. e adesso mi uccidi. Uccidilo tu. Sta arrivando mamma. Sì, sta arrivando mamma. Ancora un maiale qua c'è. Bravo, maiale, bravo. Basta giocare. Maiale, basta giocare. Dai, finiamo con maiale. Io ho anche pane. Guarda, maiale mi ha dato pane. O cosa? Ma perché? Bascotetta di maiale cruda e carne ovina cruda. Lo devo cucinare o posso mangiare così? Puoi anche mangiare così. Dove sei? Ma perché tu sempre scapi io la devo prendere, guarda. mamma. Cosa stai facendo? Sto mangiando. Ho mangiato, ma non ho preso cuori. Ti servono un cuore? Sì. Ah, sì, ti servono un cuore. Bene, torniamo a casa nostra e andiamo lì. Andiamo a dormire perché mi sembra che la mamma ci sta indietro alle spalle. Guarda perché ci guarda male. Andiamo a dormire. Scatola allora non sai come si fa. Eh? Sì che lo so. Come? Possiamo fare scatola e scaricare tutte le cose così? Dai mi incollerei. Quanti ci serve? Basta, basta, basta. Guarda che zombie che c'è indietro. Ancora un po'. Si può fare anche terra? No. E allora niente. Ma tu ce l'hai uno. Guarda che ce l'hai uno, hai fatto. Quanti volevi fare? Sì, due perché così ce l'abbiamo. Ma cosa cambia? Dai scarichiamo tutte le cose così non perdiamo domani per domani. Io ho carne. La mia parte è fino a 200 e mezzo. Guarda come si fa. Guarda, guarda. Guarda, schiacci shift. Scarichiamo solo le cose importanti. Questo è tuo. Questo è tuo. Metti dove tu ho tutto. Cosa cambia? Cosa cambia? Prendi anche meglio se vuoi. Se no come facciamo andare in grotta? Andate a dormire. Non vi lascio in pace finché non vedo che Mede va a dormire. Domani c'è scuola. Siamo come nuovi. Tipo come appena morti. Ci siamo scaricate. Dai. Che c'è escape? Qua. Guarda salva e torno al menu principale. Qua salva. Ecco. Ragazzi vi salutiamo e vi amiamo. Iscrivitevi sul nostro canale. Mamma cosa dici? Dai un paio di parole. Iscrivitevi sul canale di questi qua perché se no continuano a giocare tutto giorno e... sarà disastro. Lasciate i commenti se volete vedere nel prossimo video. Ciao. 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 Ciao.